Si riaccendono le luci all'ex Eliseo, la casa del cinema di Avellino. Venerdì e sabato si svolgerà la prima edizione del premio Ettore Scola. Sotto la direzione artistica del regista Giovanni Veronesi e alla presenza di ospiti prestigiosi si assisterà alla premiazione di importanti nomi del cinema italiano. Il sindaco Festa parla di giornata storica per la città, ma l'ex assessore alla cultura Bruno Gambardella avverte non sia soltanto un'apertura spot. Il comune trovi sponsor per sostenere la fondazione che mette insieme anche Gesualdo Casina del Principe e Villa Mendola, altrimenti sarà un bagno di sangue per le casse di Palazzo di Città. Indubbiamente è una buona notizia perché ogni volta che all'Eliseo viene offerto un soffio di vita per la città, per la cultura in città, è una città abbastanza sfittica da questo punto di vista. La mostra di scuola è una cosa sicuramente bella da vedere, interessante, e sarà anche interessante, questo è un invito che io faccio ai cittadini, soprattutto ai più giovani, di andare a vedere la mostra per andare a vedere anche l'Eliseo dall'interno, che non è solo questo gigante sfregiato all'esterno. Io mi auguro che non sia una rondine che non fa primavera. Finalmente abbiamo saputo dal sindaco che la prefettura ha dato il via libera, insomma sarebbe alla firma del prefetto l'autorizzazione della fondazione di partecipazione. non è la stessa che avevamo ipotizzato noi, infatti ho qualche perplessità, però parta questa fondazione di partecipazione, riparta la cultura in città e riparta l'Eliseo, sarebbe una splendida notizia per tutti.